Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. In questo veloce vlog di oggi vi faccio vedere le novità che sono arrivate presso il nostro negozio sponsor Gioco Libreria Semola e vi faccio vedere le cose che sono state inserite nel catalogo ovviamente di giochi e modellismo, per le cose che ci riguardano e che trattiamo sul canale e il catalogo è veramente ricco di nuovi contenuti e a livello di roba della GV c'è qualcosa di spettacolare appena arrivato ed il negozio ne è fornitissimo. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Andando sul sito libreriasemola.it, tanto poi comunque nel corso del video e primo link in descrizione avete sempre il link diretto per andarci andate qua su e cliccate su giochi e modellismo e vi vengono fuori tutte quante le novità principali che sono state inserite nel catalogo comunque possiamo vedere pennelli perché sono stati inseriti tantissimi prodotti non soltanto di colori e pitture e bombolette della GV, primer, colori e cose del genere ma anche quanto dell'Army Painter. Quindi trovate anche tutto quanto il catalogo dell'Army Painter direttamente sul sito, sul portale del nostro negozio sponsor più ovviamente anche i maggiori giochi di ruolo di successo. Abbiamo addirittura la nuova versione di Cyberpunk, edizione italiana della Need Games abbiamo addirittura Last Bastion, abbiamo anche che vedevo qua su Aquatica, che anche questo è Falling Skies che sono uscite da poco quindi anche il catalogo è sempre ricco con tutte le nuove uscite di giochi da tavolo e poi andando qua su su giochi e modellismo vedete che è diviso nelle varie sezioni dei giochi della GV ad esempio andando su Age of Sigmar, le più grandi novità sono che è arrivato il Codex con tutto quanto l'esercito, tutte le scatole dei nuovi non morti e dei Soulblight Gravelords che sono i nuovi vampiri. Tra l'altro guardate sul Codex questa figura di questo conte vampiro che è veramente spettacolare e sono arrivate tutte quante le uscite, il Codex viene 25€ prezzo ovviamente di listino, che poi vi ricordo a fine video di usare anche il codice sconto più tutte quante le uscite, ad esempio una scatola base per iniziare a collezionarli vedete, Start Collecting Soulblight Gravelords 26 miniature che sono le classiche scatole insomma compra, apri e schiera, una specie di pacchettino per iniziare a giocare perché ricordo a differenza del vecchio Warhammer, del vecchio mondo, del passato, è normale, di una quindicina, ventina di anni fa Age of Sigmar permette anche tramite World Scroll di fare partite schermaglie ora non potete andare a schierare come in World Cry 4 miniature sul campo come Underworlds comunque già con 15-20 miniature potete tranquillamente giocare per mesi, mesi e mesi poi i lupi mannari abbiamo ad esempio, tra le 9 uscite, abbiamo i vari vampiri tra l'altro questa Lady Annika è spettacolare, guardate qua come miniatura sembra un po' Maleficent e quello, quello, quella che piace da morire a mia moglie, penso quello è questo qui il conte vampiro, il Vampire Lord guardate è spettacolare che ha tutti i capelli rossi sciolti e attaccati nei capelli ha dei pipistrellini una figata veramente assurda beh si sta a parlare di cose della GV che sono il top del top come modellismo da collezione anche di Wargame quindi non c'è nemmeno tanto da trovare novità e parole da dire lo vedete già direttamente da voi e questo è tutto quanto il catalogo che poi va avanti più di 15 pagine comunque delle nuove sostanziali uscite di Age of Sigmar andando su Warcry comunque anche su Warcry ci sono un bel po' di novità perché comunque sono usciti anche i libri delle varie fazioni ad esempio le fazioni che non erano presenti in gioco ma che sono presenti in Age of Sigmar potete comprare direttamente il codex all'interno avete tutte quante le war scroll delle bande e quindi potete usare tutto il contenuto che avete per Age of Sigmar e farvi una banda a punteggio aperto anche per Warcry abbiamo poi tra le novità tutto quanto, o comunque buona parte del catalogo della Warlord Games giochi di miniature che non soltanto comprende il più famoso che è Bolt Action quello ambientato in Seconda Guerra Mondiale ma abbiamo anche altri contesti storici che io tra l'altro voglio esplorare e portare sul canale tipo la guerra civile americana set di partenza questo non so in che scala sia sicuramente non sarà in 28 mm non penso comunque il set di base che costa, guardate qui, 110 euro però guardate cosa c'è dentro c'è dentro ci sono l'armata completa dei nordisti l'armata completa, scusate, dei sudisti l'armata completa dei nordisti addirittura una fattoria guardate la cavalleria tutti quanti li steccati cioè praticamente comprando questo avete un set intero per giocare la guerra civile americana e fare battaglie per per anni, non per mesi e poi abbiamo altro contenuto tipo, vabbè, la battaglia di Waterloo abbiamo Victories at Seas che è la variante di battaglie navali abbiamo Black Seas che è la variante invece di battaglie navali al tempo dei pirati nell'Age of Sail e comunque anche il catalogo sempre in espansione della Warlord Games è sempre in espansione questo se vi ricordate ve lo porto sul canale Band of Brothers è un set di partenza per iniziare a giocare a Bolt Action in scala 28-30 mm quindi paro paro quella della GV di Warhammer e le miniature sono veramente da paura e poi abbiamo tantissime altre novità che comunque potete scoprire direttamente navigando sul sito del nostro negozio sponsor come e soprattutto come vi ho fatto vedere all'inizio anche come giochi di ruolo e giochi da tavolo in generale e poi comunque vi ricordo che essendo una cartolibleria ha anche tanto contenuto e tanto materiale per le scuole quindi se dovete ordinare anche cose di cartoleria libri cancelleria o quant'altro qui trovate assolutamente tutto il negozio è fornitissimo e vi trovate praticamente qualsiasi contenuto dall'A alla Z io ringrazio ancora una volta la Gioco Libreria Semola che ci fa da negozio sponsor ormai da più di un anno e vi ricordo primo link in descrizione e insomma in pressione se dovete ordinare qualsiasi cosa fatelo dal nostro negozio sponsor al miglior prezzo sul mercato se un oggetto lo cercate ma non c'è proprio in lista oppure c'è ma è finito comunque scrivete una mail al supporto e fate presente che venite dal mio canale farà il possibile il proprietario Corrado per trovarvelo al miglior prezzo sul mercato e se spendete più di 79 euro spese postali comprese e gratuite in tutta Europa con consegna a casa in 24 ore usate sempre il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7% vi basta andare direttamente qua contattaci e scrivete un messaggio servizio cliente una mail li fate presente che arrivate dal canale di Coridan e gli dite guarda questo prodotto non ce l'ha in lista o ti è finito ma si può ancora ordinare e lui farà il possibile per trovarvelo fatemi sapere un po' cosa ne pensate e vi assicuro che c'è veramente tanto contenuto e a livello di prodotti della GV fa sempre una grandissima scorta in magazzino ordina tante cose quindi magari se al negozio di casa o quello che ci avete sotto casa è finito perché ne ha ordinate due copie lui non ha avuto problemi in passato a ordinare anche 10 più copie di giochi come Cursa & City quindi comunque ha sempre tanta roba ed è molto facile trovarcela ciao ragazzi alla prossima